L'Abruzzo di colpo diventa il modello di riferimento per quanto riguarda Italia, i costi della politica, il contenimento della spesa pubblica a partire da quella sanitaria e i propositi di ridurre la pressione fiscale. Un modello virtuoso che stride però in queste settimane con quello che accade in altre regioni italiane travolte dagli scandali di questo e d'altro. Parleremo oggi all'Inc nel consueto appuntamento del venerdì di Teleponte. Un saluto caloroso a chi ci segue da casa e un benvenuto al nostro ospite Gianni Chiodi, governatore della regione Abruzzo. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Benvenuto. Presidente, quello abruzzese è veramente un modello virtuoso o ha ragione Formigoni quando dice la Lombardia è la migliore regione d'Italia? Allora, noi siamo coloro che hanno fatto un percorso virtuoso più spiccato in questi anni. La regione Lombardia da molti anni è una regione che ha raggiunto delle eccellenze sui processi di governance, però non significa virtuoso. Virtuoso è un percorso. Chi migliora la situazione che ha ereditato? Come l'abbiamo migliorata noi rispetto alla situazione ereditata non credo che ci sia uguali nel Paese in questo momento, almeno secondo quelle che sono anche le considerazioni che ci vengono ormai fatte a livello nazionale, al Ministero dell'Economia e così via. In queste settimane, in questi giorni, il modello abruzzese ha avuto anche un riflesso mediatico importante relativamente a dei percorsi già avviati, sia dalla riduzione del numero dei consiglieri regionali alla questione del vitalizio. Magari cose che sono passate sotto silenzio o in questo momento acquistano maggiore valore in relazione a quello che accade in altre regioni d'Italia? Guardi, io vi dico una cosa. Noi abbiamo trovato legittimazione il nostro percorso di riduzione dei costi sia della politica ma anche dei costi della struttura, del funzionamento della macchina regionale che all'inizio erano apparsi come dei tagli ragioneristici. Così si diceva. Chiodi fa i tagli ragioneristici come se fosse uno scemo. Cioè, insomma, un politico che si mette a fare i tagli ragioneristici potrebbe solamente essere uno scemo perché altrimenti non farebbe. Farebbe quello che hanno fatto tutti gli altri politici che usa la spesa pubblica in deficit per aumentare il proprio consenso. Tra l'altro creando le premesse per cui dopo si arrivano a queste situazioni ma soprattutto si sottraggono quote di futuro e di speranza ai giovani. No, noi abbiamo cominciato a farlo subito. Abbiamo trovato legittimazione proprio poi quando è accaduta la vicenda della Grecia quando è accaduto quello che è accaduto al nostro governo nazionale le richieste che sono avvenute dall'Unione Europea insomma si è capito che quello che stiamo facendo noi era assolutamente inevitabile oltre che essere buona amministrazione significava soprattutto pensare alle future generazioni. e questo adesso ci viene riconosciuto ed è frutto di una serie di circostanze non è che solamente Gianni Chiodi perché è Gianni Chiodi, la sua maggioranza, il suo Consiglio, la sua Giunta è il Presidente del Consiglio regionale per la prima volta forse in Abruzzo c'è una perfetta assonanza tra quella che è la visione del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio regionale che ha reso possibili tanti interventi anche del Consiglio regionale in questo senso ma anche frutto di una comunità compresi i sindacati, compreso le associazioni il partenariato economico e sociale perché se noi abbiamo ridotto il debito del 25% il debito pro capi degli abruzzesi ogni abruzzese ha un quarto cioè il 25% di debito in meno di quando l'aveva precedentemente se siamo adesso nelle condizioni di poter pensare a una riduzione delle tasse ed attuarla significa che questo percorso è stato fatto in modo virtuoso con una comunità che si è resa conto che non si poteva fare più quello che veniva nel passato la regione Abruzzo nel 2008 era la regione più indebitata d'Italia e più tassata d'Italia la regione meno considerata in Italia la regione che veniva definita canaglia dai giornalisti la regione che Borghezio si permetteva di vivere gli abruzzesi sono un peso oggi invece scriviamo sia a Borghezio che al presidente della Toscana l'ex presidente della Toscana Martini che mi mise in grande difficoltà nella prima riunione della conferenza dei presidenti di regione allorché io difendevo l'Abruzzo fui aggredito su quello che era il comportamento irresponsabile abruzzese e oggi invece la Toscana ieri, o l'altro ieri, la settimana scorsa ha dovuto aumentare le tasse ai propri cittadini per far fronte al deficit sanitario noi le abbassiamo e io ho scritto al presidente Martini questo tipo di analisi ovviamente come le dicevo magari viene amplificato anche dal fatto che in questo momento l'opinione pubblica è un po' condizionata da quelli che sono degli scandali che investono alcune regioni in Italia appunto, infatti io sono... io dovrei rammaricarmi di questo, no? perché nel momento in cui c'è uno scandalo che riguarda un politico una classe dirigente politica inevitabilmente si è portati a fare di tutto il buon fascio e quindi direi tutti i politici sono ladri quindi di questo mi dovrei rammaricare nel caso specifico, sebbene me ne rammarichi perché ovviamente poi il cittadino fa una... generalizza però per noi abruzzesi sta diventando il modo per porci all'attenzione nazionale e questo non parlo come Gianni Chiodi ma parlo come abruzzesi che dovremmo essere fieri di questo fatto perché se oggi mi diceva l'assessore Masci è stato a un importante convegno organizzato dalla CISL con rappresentanti anche nazionali e rappresentanti del Veneto che hanno fatto dei complimenti pubblici con degli applausi che ci sono stati nei confronti del percorso di risanamento che sta facendo la regione Abruzzo io credo che possa essere un motivo di fierezza che riguarda tutta la comunità che va oltre l'appartenenza squisitamente politica ma sì, perché noi non siamo mai stati orgogliosi della nostra regione i Veneti erano orgogliosi della loro identità e della loro regione i Lombardi lo erano potendo dire noi siamo un popolo virtuoso un popolo che lavora un popolo che produce risultati le nostre istituzioni funzionano le vostre no e invece stiamo dimostrando che non è proprio così e che noi possiamo farcela come ce l'hanno fatta loro e questo è un momento in cui lo Stato invece sta raggiungendo il massimo livello storico di pressione fiscale il massimo livello storico di indebitamento pubblico si capisce bene che il fatto che noi facciamo esattamente il contrario fa pensare anche che forse lo potrebbe fare anche lo Stato e infatti a Monti che voleva mandare nelle regioni in piano di rientro sanitario dei commissari per la spending review io dissi vengano pure noi siamo tre anni che facciamo questa spending review insegneremo come si può fare d'altra parte se ce l'ha fatta la regione Abruzzo a ridurre le tasse ce la deve fare anche lo Stato anche perché se non ce la farà lo Stato noi saremo travolti dalle situazioni negative che riguarderanno lo Stato Su questo aspetto poi prima di fermarci per il primo passaggio pubblicitario senza dimenticare poi che nel 2008 insomma la regione era stata investita da un'inchiesta giudiziaria al pari di quello che accade adesso per esempio nel Lazio o in altre realtà ma noi eravamo deboli eravamo deboli come classe politica e come classe dirigente perché guardate quando c'è una regione che diventa la più indebitata d'Italia non è che lo diventa dalla sera alla mattina significa che ci sono 10 anni 15 anni 20 anni di uso direi smodato delle risorse e questo era diciamo una colpa di tutta la classe dirigente abruzzese non solo politica e quindi questo era un fatto e poi più le inchieste giudiziarie avevano determinato quel disvalore etico sulla classe dirigente abruzzese che pur senza avere non solo la camorra la mafia però venivano arrestati uno dietro l'altro chiedevano come brilli però aggiungiamo anche che fino ad oggi noi per questi comportamenti presunti diciamo scorretti non etici e anche magari costituenti reato come abruzzo e come comunità abbiamo pagato moltissimo in termini di autorevolezza sui tavoli nazionali fermo restando come sarà lo sviluppo poi dell'inchiesta ovviamente appunto voglio dire abbiamo pagato moltissimo adesso però io non vedo nessun processo che viene portato a termine e dei processi che sono stati portati a termine mi sembra che ce ne sono stati due assoluzioni una per il presidente pace e una per il presidente e una per trozzi allora quello che auspico è che si definiscano velocemente questi processi perché noi abbiamo già pagato moltissimo se queste cose sono stati dei reati veramente commessi e sarà il giudice terzo a dircelo allora li abbiamo pagati giustamente altrimenti li abbiamo pagati ingiustamente ci fermiamo per il primo passaggio pubblicitario la linea alla regia la situazione nazionale è quella ovviamente regionale con il presidente Chiodi parliamo di sanità uno degli aspetti insomma importanti emersi nel corso degli ultimi anni è stato quello ovviamente insomma del legato al piano di rientro un aspetto quale lei va orgoglioso possiamo dare dei dati nello specifico insomma per quanto concerne la riduzione del debito nella sanità abruzzese io posso dire questo che l'Abruzzo era la regione Canaglia è stata commissariata per due ordini di ragioni la prima perché non riusciva a mantenere sotto controllo i conti questo significava che a fronte lo Stato ti dava 100 così come tante altre regioni tutte le altre regioni italiane e tu ne spendevi molti di più questo significava due cose da un lato assorbire tutte le risorse regionali quindi non potevi fare le altre cose che pur una regione deve fare secondo siccome non riuscivi nemmeno poi ad avere dei fondi per poterli utilizzare perché il debito che si faceva era gigantesco diventava appunto un debito siccome il deficit era gigantesco nei vari anni il debito è diventato enorme questo debito non è vero che non lo paga nessuno il debito è il modo attraverso il quale si possono soggiogare i paesi e le nazioni ma soprattutto è quella montagna di cambiali che poi va a pesare sulle future generazioni di abruzzesi che non possono permettersi quello che si permetteva alla generazione precedente che ha sottratto quindi il futuro e la speranza alle future generazioni di abruzzesi ora era una cosa incredibile noi avevamo, dai pensi che noi avevamo fatto in sette anni un debito di circa due miliardi e mezzo di euro per la sanità non eravamo usciti più a pagare a un certo punto non siamo riusciti a pagare più i fornitori della sanità e quindi eravamo andati in fallimento quello che per un'azienda normale sarebbe fallimento non potevamo pagare le prestazioni che venivano ricevute in materia sanitaria quindi presto non avremmo pagati i dipendenti e non è una cosa strana perché ogni tanto l'ASD numero uno di Napoli per esempio non ritarda il pagamento degli stipendi e la Sicilia se non avesse ricevuto adesso questo aiuto di 900 milioni di euro non avrebbe pagato gli stipendi come sapete che erano stati pignorati quindi detto questo noi siamo stati commissariati e questo è un discredito enorme agli occhi degli italiani ma non solo come regione anche come sistema sanitario oggi posso annunciare che la regione Abruzzo è in una regione di equilibrio è una situazione di equilibrio finanziario nel senso che spendiamo quello che lo Stato ci dà non facciamo disavanzo, non facciamo deficit anzi facciamo qualche avanzo che poi riutilizziamo per investimenti nel campo sanitario mi riferisco in tecnologie e in professionalità non mettiamo a repentaglio la sanità abruzzese di cui potranno godere i nostri figli quindi è possibile abbinare risanamento economico senza far scendere la qualità dei servizi ma guardi, la cosa più facile di tutti è quella di aumentare le tasse e di aumentare il debito quello è la cosa più facile di tutti e poi pagheranno, ripeto, sempre i nostri figli è la cosa più irresponsabile che i tedeschi per esempio non si permettono di fare ce l'hanno nella carta costituzionale tedesca è previsto una generazione non si può mangiare il futuro della successiva ma non solo è possibile, ma per quanto riguarda i servizi poi ognuno può giudicare perché questo è un settore che muove molti interessi molti lobby, molti gruppi di pressione, professionali, sindacali, politici di qualunque genere, insomma imprenditoriali ma non siamo noi che possiamo dire se i livelli sono migliorati o peggiorati c'è un tavolo specifico che vede assumere un ruolo importante del Ministero della Salute e delle altre regioni italiane che si chiama il tavolo che verifica i livelli essenziali di assistenza ora se noi vediamo i livelli essenziali di assistenza che abbiamo ereditato e il livello di oggi noi possiamo dire una cosa certamente non abbiamo ancora raggiunto quei livelli essenziali di assistenza che vengono ritenuti come benchmarking dal Ministero della Salute ma l'Abruzzo non è mai stato così vicino da raggiungerli sono nettamente migliorati non per quello che dice Gianni Chiodi o che può dire un mio oppositore che dice semplicemente per il fatto che oppositore dice che sono peggiorati così come potrei dire solamente per il fatto che sono l'artefice queste cose potrebbero dire che sono migliorati lo dice questo tavolo che è un tavolo nazionale dello Stato dove presenti il governo nazionale e le regioni italiane se dicono questo vuol dire che è stato possibile contenere cioè cominciare a costruire una sanità che si avvia ad essere di qualità e a costi sostenibili per i cittadini quindi noi abbiamo nel momento in cui abbiamo ridotto il deficit nel momento in cui abbiamo messo la regione Abruzzo tra le quattro regioni italiane che oggi è virtuosa nel senso che ha un equilibrio in campo sanitario abbiamo anche migliorato secondo i tavoli a ciò deputati dove c'è lo ripeto il Ministero della Salute, l'Agenzia Sanitaria Nazionale e tutte le altre regioni italiane che certificano che la regione Abruzzo ha migliorato i livelli essenziali di assistenza questo non vuol dire che non ci sono ancora amplissimi margini di miglioramento infatti proprio su questo aspetto due gli elementi su cui magari bisognerà ancora lavorare la mobilità passiva sotto questo aspetto e ridurre le liste d'attesa nella percezione della qualità della sanità ovviamente il cittadino guarda molto a questo aspetto qui No, quello a cui guarda molto il cittadino sono le liste d'attesa che sono un problema nazionale se lei legge i quotidiani dell'Emilia Romagna troverà le lamentele circa le liste d'attesa per la mammografia e per tutte le cose le stesse che trova qui in termini direi di lamentela le liste d'attesa senz'altro e il pronto soccorso per quanto riguarda la mobilità passiva torno a dire che la mobilità passiva che ovviamente è una cosa sulla quale lavorare e dopo dirò perché però pesa alla regione Abruzzo sul bilancio della regione Abruzzo 67 milioni di euro ma la spesa sanitaria abruzzese è di 2 miliardi e mezzo di euro lei capisce bene che è una percentuale molto bassa della spesa sanitaria globale però la mobilità passiva in Abruzzo a me sembra che dipenda da due argomenti il primo è la reputazione che aveva il sistema sanitario abruzzese che appunto perché è stato il primo a fallire nel paese aveva perso credibilità prima ancora della Sicilia aveva perso credibilità poi tenga conto che abbiamo avuto sanzioni durissime tipo il blocco del turnover quindi non ha dato la possibilità di sostituire i medici che andavano in pensione e così via secondo aspetto è dato al fatto che la nostra mobilità passiva è una mobilità passiva che si concentra essenzialmente sulla provincia di Teramo cioè di questi 67 milioni di euro 47 mi sembra sono prodotti dall'AS di Teramo però per quali attività perché normalmente uno dice è normale che se io siccome noi abbiamo un sistema universalistico io scelgo paziente scelgo dove andarmi a curare se voglio andare al Niguarda vado dal Niguarda è un centro di eccellenza straordinario vado lì la nostra mobilità passiva purtroppo non è che si fonda su queste cose ma su interventi di bassissima complessità e questo significa che evidentemente uno dei problemi nostri è stato la lista d'attesa il secondo dei problemi nostri è stato il fatto di far deperire e far morire di fatto senza chiuderlo formalmente il presidio di Sant'Omero che ha determinato anche una diciamo così il fatto che quasi il 70% della popolazione residente nella Val Vibrata si rivalgesse una migrazione del settore marchigiano nel settore marchigiano dove si sono collocate una serie di cliniche private che tra l'altro fanno riferimento anche a proprietà della regione quindi insomma una storia costruita negli anni per cui adesso la stiamo per la prima volta da dieci anni a questa parte c'è una inversione della curva della mobilità passiva o meglio del saldo tra mobilità passiva e mobilità attiva e ce l'abbiamo proprio in costanza dell'anno scorso quindi questo non vuol dire ancora niente però si è interrotta lei la curva invece che vederla sempre che scende a questo punto può declinare non declinare rimanere stabile io sono convinto che comincerà a scendere però prima che si percepiscano tutte queste cose anche in termini di reputazione ci si metterà un po' di tempo sotto questo punto di vista probabilmente anche il fatto di incrementare la medicina sul territorio potrebbe contribuire non c'è dubbio adesso i nostri interventi saranno concentrati su tre questioni che io definisco medicina territoriale sulle fragilità e sulla rete di emergenza urgenza queste sono le cose sulle quali la regione Abus adesso ha necessità di investire ma ha anche la possibilità di investire perché prima non ce l'aveva la possibilità di investire si diceva tutti quanti la medicina territoriale è la medicina territoriale ma non c'era la possibilità di investire perché quando sei indebitato fino al collo non riesci a pagare i fornitori immagina se puoi anche investire oggi si può investire su questo e stiamo lavorando in questo senso l'operazione Sant'Omero è stata un'operazione straordinaria perché noi l'abbiamo fatta vicino alla chiusura o alla privatizzazione ma l'abbiamo fatta questa operazione nel momento in cui eravamo in piena diciamo difficoltà finanziaria e abbiamo detto ma come si può rivitalizzare certo potremmo assumere primari sì ma non possiamo farlo assumere medici cioè ci è vietato per legge perché siamo una regione che è stata diventata canaglia allora abbiamo inventato una soluzione che ha coinvolto diciamo il mondo universitario e questo credo che abbia portato dei benefici e stia portando dei benefici in dubbi che si vedranno di più nei prossimi anni per le liste d'attesa invece è un problema di carattere generale sulle quali si può migliorare ecco per esempio la mammografia a Teramo aveva 300 giorni oggi invece è scesa moltissimo l'AS di Teramo questa mammografia facendo degli interventi organizzativi ma lì c'è anche un eccesso di richieste di prestazione e dobbiamo lavorare su tutti i fronti così come sul pronto soccorso si dice il pronto soccorso il pronto soccorso esiste per fare proprio gli interventi di pronto soccorso non per fare una sorta di accettazione di codici bianchi e così via allora voi dovete sapere che nel pronto soccorso della regione Abruzzo solamente meno dell'1% di tutte le prestazioni che si fanno nei pronto soccorsi sono codici rosso pochi di più sono codici giallo la stragrandissima maggioranza sono codici verdi e codici bianchi i codici bianchi non dovrebbero andarci in pronto soccorso non è vero che pagano un ticket se ci vanno ma molti che sono anche codici verdi sono in realtà codici bianchi che vengono classificati come codici verdi per non far pagare i ticket e su questo stiamo lavorando coinvolgendo anche i NOE e coinvolgendo anche gli organismi di controllo perché non si può andare avanti c'era un dato interessante relativamente rimaniamo in tema per quanto riguarda le emergenze in cui la ASL di Teramo continua ancora a spendere 50% di più rispetto alla ASL dell'Aquila relativamente alla medicina di emergenza con 118 anche questo è un elemento su cui lavorare ma guardi questi sono in Abruzzo non c'erano solo prima c'erano 6 ASL in Abruzzo lei consideri che un territorio di 1.350.000 abitanti aveva 6 ASL e 35 ospedali tra pubblico e privato poi è chiaro che il sistema il cittadino il cittadino deve sapere che queste cose qualcuno li paga e non li paga pantalone li pagano i cittadini attraverso le tasse oppure attraverso il debito che si fa che pagano i loro figli quindi è chiaro che devono sapere bene queste cose allora noi avevamo 35 ospedali tra pubblico e privato e avevamo come ho detto 6 ASL e ognuna di queste ASL si comportava in maniera difforme senza una regia e anche all'interno della singola ASL i presidi ospedalieri si comportavano come repubblica marinare questo faceva perdere tante opportunità di contenimento e di risparmio e di razionalizzazione dei costi le faccio un esempio noi abbiamo fatto una gara sui farmaci allora prima ognuno comprava i farmaci che erano diciamo così necessari alla propria ASL e al proprio presidio ospedaliero io ho detto ma perché non sfruttare quelle che possono essere i vantaggi di fare delle gare più grandi e quindi le economie di scala bene abbiamo messo e non era facile perché c'è stata molta resistenza abbiamo fatto una gara per 320 milioni di euro il costo storico era cioè la base d'asta era pari al costo storico sostenuto l'anno precedente per i farmaci abbiamo ottenuto un risparmio in tre anni perché la gara era per tre anni di 60 milioni di euro cioè lei capisce bene che si pagavano 60 milioni di euro in più che pagavano gli abruzzesi attraverso o le tasse o attraverso il debito quindi facendolo pagare ai propri figli senza un motivo plausibile lo stesso vale per i vaccini ma ce ne sono tanti di esempi e dobbiamo ancora migliorare in questo senso io l'ho detto non è che noi siamo al punto d'arrivo noi abbiamo fatto quello che un qualunque buon padre di famiglia avrebbe dovuto fare prima non si faceva perché a mio giudizio la sanità veniva utilizzata più di quanto venga utilizzata oggi e quindi c'è una critica anche ancora oggi permangono dei problemi in questo senso per fini di natura politica un po' come tutta la spesa pubblica lo Stato cioè il politico utilizzava la spesa pubblica il più possibile non gli fregava niente che si faceva il debito quindi mettendo ripeto ancora una volta in crisi la futura generazione per ottenere e massimizzare il consenso elettorale facendo credere che la possibile è dare tutto a tutti quando invece dare tutto a tutti è ovviamente impossibile oggi siamo nelle condizioni di poter governare questi processi anche perché li conosciamo di più e poter migliorare attraverso investimenti nel futuro io non esito a dire posso fare una scommessa tra scommettete che se non dovessi essere io più il presidente della regione magari si dovesse trovare la sinistra essere il presidente della regione direbbe immediatamente che la sanità dopo due anni diventerà una sanità di grande eccellente qualità allora al di là del gioco delle parti che questo accade quando uno è maggioranza e opposizione la realtà è che la sanità nei prossimi anni migliorerà in maniera sensibile per chiudere il tema legato alla sanità una breve riflessione che investe il terramano relativamente ai presidi ospedalieri probabilmente insomma un ulteriore passo in avanti va fatto nel rendere comunque delle eccellenze ciascun presidio ospedaliero insomma questo ovviamente nessuno può potrà più avere magari l'ospedale sotto casa qual è la strategia? l'ospedale sotto casa noi avevamo ospedali che facevano 2,5 ricoveri in media al giorno e avevano 166 dipendenti cioè voglio dire avevamo ricoveri cioè molti di questi ospedali che noi abbiamo riconvertito avevano casistiche molto limitate un altissimo tasso di ricoveri inappropriati per giustificare la propria esistenza si ricoverava quando non c'era bisogno di ricoverare e tante altre cose che adesso non voglio parlare però aumentavano i generali aumentavano il numero di primari aumentava tutto quello che c'è da fare quindi non aveva e tra l'altro erano pericolosi erano pericolosi perché io faccio sempre l'esempio del parto tanto per farci capire se il parto va tutto bene in teoria potresti ancora farlo a casa ma se ci dovesse essere una complicazione e sei in un punto nascita che non ha per esempio la terapia neonatale il rischio è molto serio sì una cosa dici io faccio partorisco sotto casa però metto a rischio nell'eventualità qualcosa non vada bene la sopravvivenza mia o di mio figlio allora detto questo io credo che sia ormai ma è un dato di fatto lo dicono tutti i medici non è avere il presidio sotto casa bisogna costruire dei presidi di grande qualità nel limite di quello che ti puoi permettere perché ovviamente non è che puoi fare le cose senza avere poi i soldi per le coperture finanziarie ma noi abbiamo deciso appunto di puntare su alcuni hub quattro hub in Abruzzo cioè quattro ospedali che fanno tutto e che devono essere di eccellenza e poi con una serie di altri ospedali che sono SPOC cioè sono i raggi che attorno diciamo ad un centro che comunque di referenza direi eccellente detto questo io credo che un modello che poi anche altre regioni hanno utilizzato quelle regioni virtuose che ha funzionato meglio dei modelli meridionali che erano quelli dell'Abruzzo quelli della Sicilia della Calabria della Campania della Puglia dove c'erano ancora gli ospedaletti rimaniamo dalla sanità passiamo ad affrontare il discorso legato alla pressione fiscale lo ha detto in apertura ovviamente insomma l'obiettivo è quello di andare a ridurre la pressione fiscale a partire probabilmente ci si augura dal prossimo anno in che misura le faccio la domanda diamo la linea alla pubblicità e poi rientriamo per dare questa risposta la linea alla regia prima della pubblicità avevamo introdotto il tema della pressione fiscale governatore è possibile attendersi una riduzione in Abruzzo lei lo ha lo ha lasciato intravedere detto insomma in più circostanze abbiamo lavorato per questo e dopo le dirò anche perché abbiamo lavorato per questo e oggi non solo posso ribadire che in finanziaria ci sarà la riduzione della pressione fiscale ma posso anche diciamo così anticipare che sono molto ottimista sul fatto che il governo Monti ci autorizzi in questo senso ieri ho avuto una nota dall'advisor del ministero dell'economia che in qualche maniera si è dichiarato favorevole per i risultati che noi abbiamo raggiunto a questa riduzione fiscale perché l'advisor del ministero dell'economia deve sostenerla perché altrimenti e quindi questo mi fa ancora ben sperare quindi ci sarà la riduzione delle tasse in Abruzzo e quindi noi passeremo dalla regione dove la tassazione pro capite era la più alta d'Italia nel 2008 ad essere nel 2013 la regione d'Italia con la tassazione più bassa pro capite è un risultato direi che auspichiamo anche che ripeto possa fare il paese è prematuro già fare delle anticipazioni relativamente a quello che potrà essere l'abbattimento ma è prematuro lo sai perché è prematuro intanto voglio spiegare perché vogliamo ridurre le tasse noi siamo profondamente convinti sa l'alternativa quale sarebbe stata per me di fare come è stato fatto dalle altre classi dirigenti nel passato di lasciare a chi arrivava o insomma a chiunque dopo una legislatura un debito più alto di quello che avevi ereditato così avevi avuto dei fondi a disposizione per accontentare le corporazioni e tutto quello che è necessario noi invece abbiamo fatto un discorso molto diciamo inverso abbiamo detto noi dobbiamo arrivare alla riduzione delle tasse perché dobbiamo arrivare alla riduzione delle tasse perché secondo me e secondo noi la crescita non si fa per decreto la famosa crescita che tutti cercano lo sviluppo secondo me la crescita dipende da due cose dipende dai consumi privati e dagli investimenti privati ma la gente consuma di più se ha qualche spicciolo in tasca per consumare e gli investitori privati fanno investimenti se hanno la speranza di quasi certezza di ottenere nel medio termine dei vantaggi economici importanti in entrambi i casi le tasse scoraggiano questo tipo di risultato quindi della crescita perché le tasse erodono la possibilità disponibile da parte dei cittadini e quindi la possibilità per loro di consumare e sono un costo per gli imprenditori piuttosto rilevante se poi il nostro è il costo più alto del mondo capisce bene che le nostre imprese si trovano in un'enorme difficoltà per affrontare la competitività quindi l'abbiamo voluto fare per questo adesso i sindacati stanno trattando con me o meglio vogliono mi hanno chiesto di partecipare per vedere come modulare questa riduzione delle tasse farla generica per tutti per le imprese non per le imprese per i redditi differenziando a seconda dei redditi che uno ha quindi tutta una questione però io dico loro sì bene mi fa piacere che adesso vogliamo discutere di questo però nel momento in cui noi facevamo quelle scelte che erano necessariamente diciamo anteriori o comunque ineluttabilmente necessari per raggiungere questo ovviamente impopolare noi siamo stati lasciati soli quindi adesso tutti quanti diciamo vediamo come ridurre le tasse però quando abbiamo creato le premesse perché questo si facesse si potesse arrivare facendo delle scelte beh siamo stati veramente aggrediti a destra e a manca non posso dirle ancora l'entità della riduzione perché sarà negoziata con il governo sono monti però secondo me è una riduzione che può essere diciamo tale da portare la regione Abruzzo ad essere la regione tra le regioni meno tassate perché dico questo forse la regione meno tassata perché noi abbiamo avuto l'aumento delle tasse nel 2008 poi noi non abbiamo aumentato tasse mentre invece le altre regioni che avevano il piano di rientro mi riferisco alla Campania alla Puglia al Molise alla Calabria mi riferisco alla Sicilia ma mi riferisco anche al Veneto e per ultima alla Toscana hanno aumentato le tasse parliamo di addizionali sì sì parliamo sempre degli addizionali regionali ovviamente non è che possiamo parlare è una precisazione importante sì addizionale IRPEF l'addizionale regionale e l'addizionale IRAP sulle imprese regionali perché io non posso diminuire le tasse statali però ci devono arrivare ugualmente il governo Monti deve arrivare a questo obiettivo ci metterà più tempo io sono anche ottimista perché in fin dei conti il governo Monti ha iniziato a fare più tardi quello che noi abbiamo iniziato a fare tre anni fa quindi io spero che le azioni del governo Monti possano portare alla riduzione delle tasse altrimenti è un fallimento diciamo lo che ha detto anche perché sono stati chiesti parecchi sacrifici in una fase economica decisamente complicata beh sono stati chiesti hanno fatto quello che fece l'Abruzzo nel 2007 l'Abruzzo nel 2007 la prima quando fu commissariato la prima cosa che fece aumentò le tasse per obbligo di legge così noi siamo il governo Monti è stato costretto ad aumentare le tasse dalla scelta anche dell'Unione Europea dice vuoi il sostegno da parte della Banca Centrale Europea senza sostegno della Banca Centrale Europea noi tre mesi non paghiamo gli stipendi pubblici sia chiaro ha detto vuoi il sostegno la prima cosa che fai è mettere in equilibrio i conti pubblici quindi prima cosa chiedi ai tuoi ai tuoi cittadini un sacrificio perché se vuoi essere garantito dai cittadini tedeschi dagli operai tedeschi che devono garantire con i fondi della Banca Centrale Europea devono garantire il tuo Stato eh ma amico mio comincia a fare i tuoi sacrifici dopodiché adesso ci aspettiamo da Monti quelle cose che ancora non vedo l'inversione è il trend cioè la riduzione del debito e poi la riduzione delle tasse speriamo che questo avvenga io sono fiducioso e comunque la strada intrapresa al governo è quella inevitabile non è che ci poteva essere un governo di altro genere di altro segno politico che avrebbe potuto fare cose diverse i problemi la crisi di oggi non è la crisi non è non è la causa dei nostri problemi è l'effetto le cause sono da ritrovare negli anni precedenti così come non utile anche nei prossimi anni non è che la gente si può aspettare che ritorni la mucca da mungere la mucca da mungere non tornerà più noi abbiamo firmato un fiscal compact e qualche giorno fa l'ha votato anche il Parlamento francese che ci impone per i prossimi 20 anni di ridurre la spesa pubblica ogni anno di 45 miliardi di euro per arrivare tra 20 anni così allo stesso rapporto debito pubblico PIL che oggi è la Germania capite bene che nei prossimi anni quelle campagne elettorali che si apprestano ci saranno chi dirà dirà un sacco di stupidaggini l'unica cosa che bisognerà dire è come si fa rispettare questo parametro e quindi quali sono le scelte alcune impopolari e drammatiche che una classe dirigente si troverà a dover fare faccio un esempio la spesa sanitaria è una spesa sanitaria crescente ed è una spesa secondo me strategica vista anche l'allungamento della vita visto anche del nostro benessere quindi è fondamentale per il nostro benessere ma come facciamo ad assicurare quel trend di crescita della spesa sanitaria in un contesto in cui invece dobbiamo ridurre la spesa pubblica probabilmente dobbiamo rinunciare ad altro e questo altro potrebbe essere non so gli ammortizzatori sociali una parte degli ammortizzatori sociali quindi potrebbero essere scelte drammatiche difficilissime qualunque governo andrà a farlo quindi non credete a chi dice che non ci sarà necessario fare i sacrifici perché hanno la bacchetta magica questi sono gli imbonitori politici politicanti oggi io penso che il paese abbia preso la coscienza del fatto che di gente che fa pensare ai migliori mondi possibili o desiderabili senza averne poi la capacità concreta di dimostrare come si fa ne possiamo fare a meno perché ci hanno portato in questa condizione in stretta correlazione al ragionamento che faceva ovviamente c'è quello del contenimento della spesa pubblica e i costi della politica altro elemento insomma che magari può suscitare demagogia in Abruzzo insomma è stato avviato un processo insomma relativo alla riduzione del numero di consiglieri regionali in precedenza c'era stato anche il discorso del vitalizio dal suo punto di vista secondo lei quale potrebbe essere uno stipendio come dire per un consigliere regionale o per un parlamentare magari su questi temi insomma l'opinione pubblica è molto attenta allora mi faccia prima informare i cittadini di quello che è stato fatto in Abruzzo prima che le circostanze lo rendessero quanto meno quanto necessario insomma bene noi abbiamo portato l'età pensionabile che quando io sono entrato in consiglio regionale era 55 anni l'abbiamo portata già nel 2010 a 65 anni parliamo ovviamente di consigli dell'invenità delle pensioni le famose pensioni e vitu per la pensione nel 2011 quindi prima ancora che le circostanze lo dovessero evidenziare come le regioni abbiamo eliminato il vitalizio quindi non ci sarà più vitalizio a partire dalla futura legislatura non potevamo toccare i diritti quesiti abbiamo ridotto le indennità tant'è vero che oggi siamo il punto di riferimento per tutte le regioni italiane che si devono adeguare a quelle della regione Abruzzo abbiamo ridotto le comunità montane eliminato le comunità montane sul livello del mare messo in liquidazione le società partecipate che producevano perdite ne sono tre messi in liquidazione abbiamo accorpato le agenzie regionali per il turismo per l'agricoltura per Abruzzo Lavoro l'abbiamo fatta rientrare all'interno della regione abbiamo ridotto le IPAB abbiamo ridotto il numero dei consorsi fidi lei consideri che in Abruzzo c'erano 78 consorsi fidi che venivano anche alimentati dal pubblico in Lombardia ce ne erano solamente 19 abbiamo ridotto gli enti d'ambio quindi abbiamo fatto una serie di questioni che servono a far costare meno la macchina non a dare meno servizi a costare meno la macchina detto questo qual è uno stipendio il problema non era nemmeno tanto l'entità degli stipendi diciamo che la politica comunque dà sia ai consigli regionali che ai nomi a diciamo a cosiddetti posti di sotto governo non spiego perché non è così allora vede se io devo gestire bene una ASL faccio un esempio e devo cercare di avere le migliori professionalità sul mercato anche da contendere con i privati ho necessità di doverli corrispondere pagare bene perché se non li pago bene non verranno mai a gestire le aziende pubbliche andranno a gestire le aziende private il problema sa qual era era il numero di stipendi che venivano pagati enormi enormi quindi magari stipendi anche non in grado di attirare diciamo le migliori professionalità ma che comunque erano dispensatori di piccoli privilegi o compensi o rimborsi insomma soldi a coloro che ti avevano sostenuto nell'ambito delle campagne elettorali che ti avevano sostenuto come insomma io abbiamo fatto in maniera tale che la politica possa fare 250 nomine in meno di quelle che si potevano fare fino all'epoca del turco cioè io ho commissariato 23 enti regionali mettendo nella maggior parte dei casi dipendenti della regione quindi cioè noi possiamo fare 250 nomine in meno e quindi questo è un dato di fatto che significa anche ridurre i 250 numero di stipendi da pagare quindi che cosa invece lei mi sta facendo un'altra domanda qual è diciamo così il compenso giusto allora chi fa il presente della regione quello abruzzese in questo momento secondo lei è il lo diceva prima può essere il ieri l'abbiamo visto anche a porta a porta ieri insomma c'è stata una tabella molto chiara ieri o altro ieri se non mi ricordo dove fonte è solo 24 ore siccome c'è una legge che dice che in pratica le indennità si dovranno adeguare a quelle della regione più virtuosa abbiamo visto che la regione che aveva l'indenità più bassa era la regione Abruzzo e quindi le altre si sarebbero tutte quante avrebbero dovuto tagliare in maniera tale da raggiungere quella della regione Abruzzo quindi io credo che questo sia significativo però lei mi sta fare un'altra domanda e mi dice ma secondo lei quale dovrebbe essere il costo che la collettività deve sopportare per mantenere un presente della regione previso che il presente della regione non fa gli interessi propri deve mantenere una macchina che è pubblica far funzionare i servizi cercare di migliorare le cose in regione insomma tutte queste cose è come se io dovessi dirle qual è lo stipendio giusto lei mi dice per uno che amministra il tuo condominio o la tua società bene io ritengo che debba essere un compenso tanto il presidente di una regione quanto guadagna? il presidente della regione netto tra tutto quello che diciamo così spetta il presidente della regione arriva sugli 8000 tra gli 8000 e gli 8500 una cosa oscillante adesso non ricordo bene dopo Italia e io credo che sia un compenso buono ma è un compenso che a mio giudizio cioè voglio dire io la mia dichiarazione redditi l'ho dimezzata da quando faccio il presidente della regione cioè sono pubbliche le mie dichiarazioni redditi quindi io dichiaravo esattamente il doppio quando non ero presidente della regione quando facevo la mia attività professionale bisogna evitare che la politica poi la possano fare solamente coloro che sono o diciamo così che vogliono usare la politica per fini direi di malaffare o spregiudicati oppure coloro che magari avendo un un posto pubblico poi lo possono effettivamente mantenere perché sai che il posto pubblico lei fa un incarico politico ha la possibilità di avere l'aspettativa per cui dopo qualunque dovesse succedere noi mettiamo a repentaglio anche la nostra attività professionale in qualche maniera cioè i nostri tempi quindi io credo che uno stipendio del presidente della regione tenga conto che il mio stipendio penso che sia il terzo e ultimo d'Italia o il penultimo d'Italia vendola faccio un esempio che tra l'altro mi sembra che sia un po' più comunista di me aveva uno stipendio che era più del doppio del mio tenga conto che noi lavoriamo comunque dalla mattina io non credo guardi io ho fatto il professionista per tanti anni quindi già il professionista nel suo studio lavora il più possibile perché più lavora più massimizza ma io lavoro molto di più di quanto lavoravo come professionista e con responsabilità molto più grandi lei considera che io ho firmato mandati per la ricostruzione sono stato commissario di ricostruzione senza avere un compenso e commissario della sanità senza avere un compenso perché prima si diceva addirittura che io avessi un compenso anche per questo io ho firmato mandati per tra i due commissariamenti diciamo 2 miliardi e mezzo di euro ciascuno perché quindi 5 miliardi di euro di somme che ho dovuto gestire capisce bene che la responsabilità collegata è talmente grande che io non ho trovato un'assicurazione disposta che mi assicurasse quindi detto questo tutto è relativo per me si può portare anche a un prezzo molto a un prezzo molto basso il compenso del Presidente della Regione ma io se io fossi un cittadino cercherei di invogliare qualcuno a farlo in maniera professionale ma probabilmente i rivoli da bloccare sono probabilmente altri all'indomani del 92 io l'ho spiegato noi pagavamo il problema della politica è che ci sono al di là dei compensi dei consiglieri dei compensi dei dei presidenti il Presidente ne è uno su 1.350.000 abitanti ma avevamo una pletora di agenzie e di società partecipate che determinava che gli stipendi che si pagavano erano numerosissimi e andavano ad alimentare quello sì attraverso posti di governo tutta una categoria che una volta Gaspari definì pagnottisti cioè quelli che vivono di politica e quello bisogna evitarlo infatti lì bisogna ridurre ma secondo me se io dovessi scegliere se io potessi prendere non so per amministrare il mio condominio cercherei di prendere la persona migliore possibile ovviamente sul mercato disponibile all'indomani del 92 dopo la vicenda di Tangentopoli si disse che insomma i politici e i amministratori andavano pagati adeguatamente per evitare fenomeni legati alla corruzione questi 20 anni invece adesso c'è il discorso inverso bisogna ridurre fermo restando che certe situazioni di malaffare diciamo legate alla politica permangono allora i politici vanno dai delinquenti agli statisti come qualunque altra manifestazione dell'attività umana quindi le troverà sempre nei politici delle persone che usano la politica per fini personali prendendo delle tangenti e comunque utilizzando in modo spregiudicato le risorse pubbliche così come troverà sempre tra i politici anche delle persone che sono degli statisti delle persone che svolgono la loro propria attività in maniera corretta e pulita poi troverà una terza categoria di persone gente che non prende le tangenti ma che sottrae per avere i voti è disposto a saccheggiare le finanze pubbliche per avere i voti e lasciare un debito enorme ai propri figli questa è la terza categoria di persone che alcune volte fanno più danno anche che probabilmente è cresciuta nel corso dei decenni guardi noi per decenni abbiamo avuto parlamenti il cui scopo fondamentale era quello di moltiplicare in termini peggiorativi le finanziarie che venivano presentate dai governi per cercare di accontentare le proprie clientele che fossero corporazioni che fossero particolari settori della pubblica amministrazione che fossero diciamo così interessi comunque particolari e questo veniva considerato quasi un successo per certi versi invece no invece stavamo creando le premesse per quello che sta accadendo oggi ma soprattutto io lo ripeto perché altrimenti non si comprende cioè io sono disposto a fare un sacrificio per non mettere mio figlio in condizione di non potersi permettere il welfare che c'avevo io e questo invece non gliel'abbiamo mai fatto comprendere agli italiani agli elettori e quindi tutti quanti magari abbiamo votato apprezzato quelle che erano in un aumento della spesa allora io ho fatto un primo tavolo di concertazione cosiddetti di concertazione dove c'erano tutte le categorie rappresentate lo feci subito dopo la mia elezione in un contesto nel quale la regione Abruzzo era fallita come l'ho detto quindi doveva ridurre il debito bene tutte le corporazioni mi dissero ciascuna corporazione più per la mia più per la mia più per questo più per questo più per questo più per la cultura più per il turismo più per la sanità più per questo più per tutto e io dissi vabbè più per tutto d'accordo ma dove li prendiamo questi fondi e allora dissi io rappresento però una corporazione che qui non c'è presente lui disse quali sono queste quali sono queste le corporazioni e io dissi la corporazione che manca è quella dei giovani che hanno tra 0 e 18 anni per loro e non sono rappresentati perché non votano loro hanno un interesse solo a ridurre le cambiali che hanno sulla loro spalle che li comporteranno nel futuro di non avere le stesse cose che abbiamo noi bene quelli li rappresento io e dissi quindi di no a tutte queste richieste di maggiori spese una volta in politica si sarebbe detto sì 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 basta che mi voti però dopo saremmo arrivati prima o poi in una situazione di ingestibilità insomma è soprattutto di di i tedeschi non lo fanno questo eppure esistono i politici prendono anche lì voti mi permetto di dire che probabilmente ancora c'è una differenza tra noi e la Germania con questa con questa piccola riflessione diamo la linea alla pubblicità stavamo parlando di costi legati alla politica stipendi il governatore insomma ci ha illustrato su quello che il suo stipendio c'era una riflessione ulteriore da fare su questo aspetto no dunque qualcuno mi ha chiesto dice sì ma capisco che il governatore prende 8500 euro ma quando prendono gli altri allora quando prendono il presidente del consiglio regionale prende come il governatore e i consiglieri per un motivo per un altro poco di meno la differenza potrà essere intorno alle 1000 euro adesso io non so precisamente quindi ma detto questo lo ripeto ancora una volta io se dovessi cercare delle persone che vanno a governare e a governare anche nel mio interesse cercherei di far sì che ci possano andare persone che non sono attratte da situazioni di malaffare quindi di tangenti o quant'altro che possano rappresentarmi in modo dignitoso e che siano anche magari di qualità perché altrimenti i miei interessi verrebbero lesi ecco perciò c'è un sistema democratico intanto noi siamo tutti eletti nessuno è nominato detto questo io se dovessi non starei tanto a vedere personalmente la questione ma lo punirei nel caso in cui non dovesse essere sufficientemente capace di assicurare quelle che sono le mie aspettative d'altra parte non è un lavoro che si fa per sempre o meglio non dovrebbe essere un lavoro se si fa per sempre quindi è un lavoro che dura una legislatura può levare due se uno ti rinomina se ti rivolta è un servizio dato alla comunità sotto questo punto di vista quindi dura una legislatura non è una questione che uno ha un posto di lavoro a vita quindi io preferirei insomma ecco faccio esempio direttori generali la regione abruzzo sui direttori generali ho sentito le polemiche si fanno i premi le storie non è vero compreso il premio che non è un premio bensì è la parte variabile del compenso che si dà al raggiungimento di alcuni obiettivi che vengono valutati dagli uffici non viene valutato dal politico onnicomprensivamente messo tutto questo insieme è il compenso più basso d'Italia alcuni direttori generali mi dicono amico mio io prendo meno di un primario con delle responsabilità molto di più non ci vengo da te non vengo a fare il direttore generale in Abruzzo sono capace vado a fare il direttore generale in Lombardia perché mi pagano di più allora cosa vogliamo fare vogliamo fare in maniera tale che poi non ci sia qualcuno che sia in grado di curare i nostri interventi altra cosa i requisiti che servono per essere eletti e le caratteristiche che servono per essere eletti non sono necessariamente le stesse che servono poi per governare budget miliardari e migliaia di dipendenti allora bisogna contemperare queste cose allora se magari c'hai un politico che è in grado di essere eletto per la sua bonomia la sua simpatia la sua capacità di fare buone relazioni diciamo così ok e che quindi prende un sacco di voti ma poi non è detto che quel politico sia in grado di far funzionare ripeto una macchina che gira miliardi di euro e che ha 15 mila dipendenti allora molto spesso bisogna trovare dei dirigenti che sono all'altezza e i dirigenti sono all'altezza è un mercato quello dei dirigenti in fin dei conti io cerco di invogliare a venire in Abruzzo persone che magari possono essere capaci a farla funzionare meglio ma li devo pagare altrimenti vanno da altre parti c'è un quesito che le devo sottoporre che arriva da un telespettatore 15 infermieri vincitori di concorso da 5 anni sono precari a Mazzini di Teramo sa quando verranno regolarizzati allora perché sono precari innanzitutto perché quando è stato fatto il concorso la regione Abruzzo poi è andata in defo e andata in defo significa che era fallita per cui dice una società fallita non può comprare non può mettersi ulteriori gravare ulteriori costi tanto più che secondo tutti i parametri noi in regione Abruzzo avevamo un numero di medici e un numero di infermieri superiori in media a quello che c'erano le regioni dove la sanità funzionava allora dicevano voi siete stati clientelari non avete spendete troppo e non siete in grado di gestire il bene della sanità allora detto questo per cui noi abbiamo avuto un blocco del turnover fortissimo quando abbiamo rimesso in equilibrio i conti abbiamo avuto questo sblocco del turnover per cui oggi noi l'Abruzzo può assumere il 95% dei medici che vanno in pensione quindi uno sblocco del turnover quasi totale e quindi questo permette di assicurare il ricambio di rifare la scuola medica abruzzese e così via e uno sblocco però inferiore del numero degli infermieri perché secondo i parametri che vengono elaborati dal Ministero dell'Economia e dell'Agenzia Sanitaria Nazionale la regione Abruzzo ancora aveva un numero di infermieri superiore a quella che è invece la dotazione che hanno le regioni dove la sanità funziona meglio o meglio organizzata e quindi ci dicevano guardate voi parassi che avete più infermieri a Chieti di quelli che avete a Teramo faccio un esempio e quindi è un vostro problema di organizzazione spostate gli infermieri che avete a Chieti spostatevi a Teramo o all'Aquila faccio degli esempi una cosa è dirlo una cosa è farlo le immagini passare con i sindacati e dire adesso non so il personale che lavora all'ospedale X deve essere trasferito all'ospedale Y perché nell'ospedale Y non c'è il personale nell'ospedale X quindi lei capisce bene che questo non è possibile allora detto questo e questo è il motivo per cui loro hanno dovuto attendere se sono vincitori di concorsi pubblici e non precari perché magari individuati ad personam allora la legge ci dà adesso grazie all'equilibrio che abbiamo raggiunto la possibilità di assumerli naturalmente man mano che queste cose dovranno essere diciamo così mano a mano che la percentuale di dotazione in più che noi abbiamo di infermieri sulla media delle regioni virtuose ovviamente si abbassa detto questo io credo che non mancherà moltissimo perché adesso stiamo veramente diciamo razionalizzando tutto quello che c'è da razionalizzare anche se c'è ancora da fare però il grosso è stato fatto per cui molto presto penso che questa cosa non accada non tanto lontano però una cosa voglio entrare voglio dire io non mi occupo degli aspetti gestionali della sanità perché se lo facessi incorrerei nello stesso errore che io vorrei evitare di una gestione politica della sanità sì so bene che mi attribuiscono nomine politiche la nomina quando la fa il presidente della regione è sempre politica sia chiaro quindi i direttori generali sono nominati politicamente cioè dal presidente della regione e quando vengono nominati ovviamente c'è questo non ci sono altri modi la legge dice così che si deve fare mi assumo la responsabilità della nomina ma la parte gestionale poi è dei direttori generali che rispondono per degli obiettivi però ancora tutti ragionano per come se ci fosse una gestione veramente politica anche capillare delle questioni sanitarie no le questioni sanitarie noi le gestiamo solo per le cose realisticamente molto importanti e poi non diamo mai ordine ai direttori generali semmai uno consigli si confronta ma non è che c'è una gestione politica quindi questo quando il direttore generale riterrà che ci sono le condizioni per poterlo fare cambiamo argomento in questi giorni si parla della riforma del titolo quinto della Costituzione parecchi governatori sono in allarme sembra essere un passo indietro relativamente al federalismo qual è il suo pensiero e soprattutto insomma secondo lei è un provimento frutto di quello che sta accadendo in alcune regioni per cercare di limitare la capacità di spesa delle stesse allora senz'altro è un'occasione che sta accogliendo lo Stato per forzare su quello che era un terreno di contrasto tra le regioni e lo Stato allora qui il nostro problema è che il federalismo è molto meglio dello statalismo lo statalismo è una cosa che dovremmo evitare e se non ci credete e volete tornare allo statalismo sentiremo tra dieci anni e vedrete che lo statalismo è cosa molto peggiore ci saremo insomma rimpiangeremo oggi però il federalismo non c'è ancora si dice tanto della riforma del titolo quinto della Costituzione ma era incompleta c'è stata fatta una riforma del titolo quinto della Costituzione che ha attribuito alcune materie nell'esclusiva competenza delle regioni e altre invece in misura concorrente con lo Stato ma dopo non ha dato seguito al processo federalista che prevedeva due cose essenziali la prima il federalismo fiscale perché se io do alle regioni delle funzioni e quindi delle capacità di spesa ma non gli do anche la responsabilità del prelievo fiscale a questo punto le regioni che fanno spendono e dopo chi deve tassare è lo Stato perché rimangono quindi c'è quella divaricazione tra responsabilità di tassare e poi responsabilità di pagare e poi non è stato fatto il Senato federale quindi questo dava un grande lavoro alla Corte Costituzionale perché senza il Senato federale i conflitti di interessi che si generavano andavano a fine direttamente alla Corte Costituzionale quindi di fronte a una situazione di questo genere quindi che non è che non è il federalismo che non funziona è il federalismo che non è stato fatto e quindi nessuno si può stupire che uno ha preso un cavalluccio a dondolo e si stupisce che non porta da nessuna parte certo era forse uno slogan politico del momento cavalcato da qualcuno probabilmente allora c'era la Lega che voleva allora intanto la riforma federalista del titolo quinto della Costituzione aveva fatta il centrosinistra con quattro voti di vantaggio insomma quindi già questo e poi confermata da un referendum per cui è giusto che ci sia stato la Lega spingeva affinché ci fosse il perfezionamento del percorso federalista perché se non fai il federalismo rimani in una situazione che non è né acqua cioè come si dice non è né bianco né nero è ibrida e quindi significa che ti fai carico di tutte quelle disfunzionalità che derivano dalla situazione ibrida detto questo il governo ha approfittato il governo di una situazione di debolezza del sistema delle regioni per riandare verso una logica che è un po' più statalista alcune cose però sono giuste della riforma che ha proposto il governo tipo l'energia basta pensare che siano le comunità locali a poter decidere sui progetti di investimento in materia energetica abbiamo visto che poi non si fa nulla perché la comunità locale è molto più condizionabile da quelle che sono le poteste puntuali che si trovano in zona e allora su questo poi in Italia l'energia costa il 35% di più i cittadini devono sapere perché se nessuno gliel'ha mai detto bisogna sapere che noi paghiamo sia le nostre imprese sia le nostre famiglie pagano il 35% di più dell'energia del costo di energia e quindi delle bollette rispetto ai cittadini francesi faccio un esempio perché abbiamo scelto di non fare alcuni investimenti sul campo energetico non vogliamo i ricassificatori non vogliamo le centrali idrettiche non vogliamo le centrali nucleari tutto è lecito per carità lo sceglie la gente però dopo non si può lamentare se paga il 35% di più la correlazione diritto-dovere ci deve essere così vale anche per la tassa di igiene ambientale cioè ci si lamenta che la tassa di igiene ambientale è alta ma non si fa nulla per fare gli impianti che renderebbero possibile una riduzione dei costi e ha brutto la situazione emblematica sotto questo punto di vista detto questo ma questo perché ai cittadini nessuno gli ha fatto capire che c'è una correlazione tra diritti e doveri gli facevamo credere che sarebbe stato possibile avere non avere diciamo gli impianti per la produzione di energia o i ricassificatori e nello stesso tempo avere un costo di energia a basso o così lo facevamo anche per i rifiuti invece non è possibile quindi dicevo alcune cose ci stanno positive in quella legge perché comunque il federalismo è meglio dello statalismo io dico solamente due cose la prima è che il federalismo fa emergere la differenza tra le classi dirigenti cosa che invece lo statalismo non fa emergere a piattisce se io vedo certo perché uno non ha il termine il cittadino elettore non ha il termine di comparazione se io invece vedo che una regione dà dei servizi buoni e ha delle tasse più basse della mia allora capisco che la mia classe dirigente non è all'altezza e quindi la prossima volta la cambio ma invece con lo statalismo questa comparazione non è possibile e secondo perché c'è un controllo sociale maggiore cioè qui si parla tanto degli scandali delle regioni dei comuni e compagnia bella ma nessuno ha mai andato a vedere quali sono i costi di struttura dell'unione europea nessuno è andato mai a vedere quali sono gli stipendi dei parlamentari europei delle strutture dell'unione europea della burocrazia europea perché perché è distante perché non c'è il controllo sociale io so quello che fa il mio sindaco so quello che fanno i miei assessori so quello che fa il mio presidente della provincia forse anche nelle regioni piccole quello che fa il mio presidente della regione ma non so come spendono i ministeri non so come spende la burocrazia europea quindi il controllo sociale è molto inferiore invece il controllo sociale deve essere maggiore perché solo attraverso il controllo sociale si innesca una maggiore eticità nei comportamenti politici e lo sa perché perché tanto il delinquente se è delinquente neanche la galera il rischio della galera o della cosa invece chi ha interesse ai comportamenti etici o comunque essere giudicato una brava persona una persona pulita una persona responsabile una persona onesta ha interesse che questo controllo sociale ci sia e che comunque possa essere esercitato io ritengo perciò che il federalismo è meglio quanto meno già solo per queste cose anche per altre dei sistemi statalisti che invece sono poi quelli che storicamente hanno dato molti più anche la Germania è un sistema federale gli Stati Uniti sono un sistema federale l'Italia si avviava ad essere un sistema federale però non aveva portato avanti una riforma relativamente a quelle che potrebbero essere le novità in materia di organizzazione delle istituzioni almeno in Abruzzo ma non solo tiene il banco il discorso relativo al riordino delle province lei nei giorni scorsi ha parlato anche della possibilità di una provincia unica in Abruzzo la sensazione che si avverte che su questo tema possa generarsi una guerra di campanile senza costrutto qual è il suo punto di vista? Allora intanto è una questione che ha poca rilevanza pratica per quanto riguarda l'ente provinciale le province avranno delle funzioni molto 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 limitate in sostanza stando a quello che oggi si occuperanno di scuole superiori e di strade di strade se ne potranno occupare se qualcuno gli darà i soldi o lo Stato o le regioni se no voglio dire non se ne potranno occupare quindi detto questo la questione relativa alle province è di una secondaria importanza importante invece è l'organizzazione delle funzioni statali sui territori che oggi lo Stato lega diciamo alla dimensione provinciale su questo è chiaro che potrebbero esserci dei contraccolpi allora due sono i modi per affrontare la questione o teniamo scollegata la istituzione provinciale per i compiti che qui stavamo dicendo quindi come un ente intermedio tra regione e comuni con compiti molto limitati e allora una forma di organizzazione che si limita a questo allora passi ma non deve avere nessuna rilevanza poi per quanto riguarda l'esistenza delle questure l'esistenza delle prefetture se invece c'è questo secondo aspetto allora la questione diventa molto più delicata e quindi può determinare una giusta attenzione da parte della cittadinanza e delle comunità siccome c'è questo rischio allora si sta cercando di gestire però per le camere di commercio questo problema non esiste perché le camere di commercio la dislocazione delle camere di commercio non dipende dalle scelte provinciali lo stesso quello dei tribunali l'abbiamo già visto non è che sono collegate alle scelte provinciali ci sono invece alcune istituzioni alcune funzioni statali che sono collegate perciò io ho detto pensiamo a una provincia unica perché la provincia unica potrebbe essere intanto lo Stato se noi facciamo la provincia unica il governo nazionale non potrà utilizzare la nostra proposta di magari due province per dire beh l'avete detto voi quindi dislochiamo le funzioni sulla base di quello che avete detto voi noi diciamo no la provincia è unica quindi tu non puoi dislocare non puoi mettere una questura sola per tutta l'Abruzzo e quindi ci giocheremmo meglio la partita ma la nostra prima scelta non è questa noi proporremo io sto lavorando su tre ipotesi la prima è una città metropolitana Pescara e tre province questo ovviamente sarebbe la cosa migliore per tutti tre province intendo dire le altre Pescara Pescara città metropolitana Chieti L'Aquila e terra difficilmente il governo accetterà mai una cosa di questo genere oppure stiamo lavorando su due ipotesi o provincia unica o nessuna provincia perché stiamo cercando di capire se la carta costituzionale ci impone di avere necessariamente una provincia in ogni regione alquanto meno una provincia in ogni regione o se invece la carta costituzionale che parla che la Repubblica è formata da Stato Provincia Regioni Comuni e Comunica però non dice in sostanza quante ce ne devono essere o almeno una per ogni regione quindi stiamo lavorando anche su questi scenari poi deciderà lo Stato non saremo noi che decidiamo noi la regione e il Cal danno dei pareri poi sarà lo Stato a decidere e a seconda di quelle cose che lo Stato avrà deciso il governo nazionale noi ci porremo in un'ottica di contrattazione perché la partita non è finita qui la partita semmai inizia qui è tutta da giocare è tutta da giocare bene ci fermiamo per l'ultimo passaggio pubblicitario la linea alla regia ultimo segmento di link parliamo di politica governatore il 2013 si tornerà al voto per quanto riguarda le politiche in questi giorni il suo nome è stato anche associato alla possibilità insomma di essere uno dei papabili a guidare il PDL per quanto concerne le politiche lei ha parlato di fantapolitica ma se le fosse proposto è un'ipotesi percorribile che domanda la vedo sorridere no lei ha fatto intanto io volevo rispondere che per quello che ne so io è fantapolitica ovviamente se mi avessi proposto ma perché mi devo porre un problema che secondo me è fantapolitica quindi preferisco nemmeno me la pongo la domanda perché tanto è fantapolitica e secondo perché lei capisce bene che io ho già dovuto ogni volta che devo prendere una decisione così importante della mia vita ci metto del tempo non dormo la notte lei si figura adesso non mi è su una cosa che è fantasiosa quindi lasciamo perdere la domanda non esiste insomma è altrettanto vero diamo un po' un rispiro un po' diverso che in questo momento nel centro-destra magari c'è una carenza di leadership sotto questo aspetto questo è un fatto assodato comunque magari si va alla ricerca anche di persone che possano guidare quello schieramento ma noi non è così non è così il centro-destra ha delle persone delle persone di grande qualità non sto parlando solamente del Pdl il Pdl si inserisce in un sistema di alleanze che comunque avranno a che fare con il centro-destra quindi personalità già note personalità meno note ma che comunque di area culturale di centro-destra ce ne sono e sono di grandissima qualità certo io non sono per una politica che è fatta solamente non mi rassegno a pensare che la politica è fatta solo di parole e immagini di imbonitori che fanno credere che il mondo è desiderabile coloro che vogliono esclusivamente rottamare senza proporre in qualche maniera o meglio senza avere la credibilità tutti quanti siamo capaci di dire se lo sappiamo dire se arrivo io tutto sarà meglio per voi faremo questo risolveremo la burocrazia risolveremo tutti senza però dopo senza che però nessuno mi chieda ma come vuoi fare con quale risorse in che modo tutti sono capaci di fare diventano attori allora chi è più attore riesce a spuntarla in questo senso vedo che Grillo sta avendo anche un risultato notevole d'altra parte se questo è il target che oggi è richiesto alla comunicazione politica per cercare di prendere dei voti però io rinuncio se la partita è questa io non la voglio giocare una partita di questo livello voglio mantenere la mia dignità probabilmente tutta la vita non per il periodo che faccio politica quindi che le devo dire ci sono e vedrà che non è così se lei considera che invece ritiene due leadership quelle di centrosinistra non so Vendola Bersani Renzi e come Agnabella allora le dico che anche noi ne abbiamo tantissimi ma sul piano della qualità forse sul piano della showman sul piano della capacità comunicativa imbonitrice quella che fa credere che magari è possibile coniugare rigore e sviluppo avete sentito si coniuga rigore e sviluppo io lo so fare si può coniugare avete sentito i politici che dicono sempre alimenteremo non so bisogna puntare ai giovani bisogna puntare sul turismo bisogna puntare abbiamo i mari la montagna dobbiamo valorizzarle ma se il proprio copo gli provate a chiedere come non sanno da che parte cominciare ma la maggior parte so così quindi questa sta la nostra abilità la nostra capacità la nostra maturità come cittadini di cercare di capire tra le righe se quello che sta in quel momento interpretando il ruolo politico che ci sta chiedendo il consenso è un imbonitore un demagogo oppure se invece c'è qualcosa che c'è dietro sostanza ripeto governare un paese significa governare i propri interessi se qui si continua a fare come nel passato rischiamo di perdere le nostre tredicesime rischiamo di riperdere il sistema sanitario universalistico il nostro sistema di welfare l'abbiamo praticamente massacrato ma perché? perché era insostenibile quindi voglio dire attenzione perché degli imbonitori di coloro che i problemi arrivano dopo ovviamente insomma all'orizzonte poi c'è anche una scadenza elettorale che è quella la regione Abruzzo il governatore si ricandiderà anche questa domanda un po' prematura prematura o non prematura è legittima questa domanda a me me la fanno da due anni quindi non è che ma non sono io che decido ricandidarmi sapete bene che questo è un discorso che si fa con i propri diciamo con i propri consiglieri con la propria maggioranza con il proprio partito con i partiti che possono essere alleati che possono convergere su certe posizioni si sonda anche l'opinione pubblica attraverso meccanismi che possono essere anche scientifici quindi ci sono tutta una serie di valutazioni che si dovranno fare al momento opportuno e che ci sono sempre state da che mondo è mondo quindi dire oggi lei mi può dire dalla sua disponibilità ma io se ci sono tutte queste condizioni in questo senso guardi che comunque io oggi governo come se dovessi governare per i prossimi 10-15 anni a regione Abruzzo cioè quello che è il male dei politici che fanno tutto in funzione del mandato elettorale e quindi siccome il mandato elettorale è di 5 anni normalmente non si azzardano nemmeno a fare quegli investimenti nel medio-lungo termine che pure sono necessari per un paese perché sono necessari perché un paese che non investe nel medio-lungo termine è destinato a declinare però siccome l'investimento nel medio-lungo termine magari poi quando si realizza va a tagliare il nastro non sei tu che hai iniziato allora dici beh non lo faccio per niente tanti sindaci si sono dedicati quindi solamente a fare marcia a piedi aiuole perché quelle erano quelle cose che si sarebbero viste in 5 anni e magari hanno tralasciato gli investimenti in medio-lungo termine perché dice non ne ho un riscontro visibile subito in termini di consenso io questo non l'ho mai fatto né come professionista né come sindaco di Teramo né come presidente della regione Abruzzo io semplicemente governo come se stessi governando qualcosa che è mio ma nel senso mio nel senso come responsabilità come se fosse la mia famiglia con la dirigenza del buon padre di famiglia faccio errori non ce l'ho di dubbio si pagano alcuni dazi alle mediazioni politiche che sono una realtà e che nessuno può scandalizzarsi più di tanto cioè la mediazione ha un senso 20 mediazioni no perché poi sono mediazione la metà dell'azione è necessaria se ne facciamo 20 di mediazioni talmente talmente in basso si fanno degli errori si fanno delle nomine che ti riescono bene delle nomine sbagliate si fanno insomma è la vita di tutti i giorni ma che non accade solo in Abruzzo non accade solamente in Italia accade in tutti i posti democratici ma per dare un'impronta probabilmente poi il periodo di tempo è in genere quello di due legislature a tutti i livelli quindi insomma proseguire su questo percorso potrebbe essere uno stimolo dal suo punto di vista io ci sono riuscito in una legislatura se la regione Abruzzo parte da regione con l'indebitamento pro capite più alto e con la reggione con la tassazione più alta e dopo cinque anni è l'unica che in Italia ha ridotto il debito del 25% avrà ridotto le tasse in maniera tale che tra le regioni italiane se non quella meno tassata è comunque tra quelle meno tassate si è messo in equilibrio il sistema sanitario così che adesso può investire in tecnologia e può investire in professionalità credo che in cinque anni avremo dato una risposta a quella che si aspettavano i cittadini se nonostante uno abbia fatto il commissario della sanità e il commissario della ricostruzione ha avuto un atteggiamento diciamo etico nei comportamenti io credo che anche queste sono delle cose che verranno votate insomma alla fine comunque ci saranno due squadre una squadra che è quella che ha risenato l'Abruzzo e che gli ha dato oggi la dignità tant'è vero che in Italia si parla come Abruzzo di un esempio virtuoso in tutti i sensi e l'altra squadra che si presenterà che è quella che quando ha governato fino al 2007 ha avuto come risultato il fallimento dell'Abruzzo tutti quegli enti che noi adesso stiamo chiudendo e che il centro-sinistra dice ma i meriti sono nostri perché noi vi incalziamo in questo le indennità noi ce le siamo ridotte ma perché non lo facevano quando stavano in maggioranza perché quando hanno governato hanno portato questa regione al fallimento perché non hanno eliminato 230 nomine politiche perché non hanno messo in liquidazione società ed enti perché ne hanno fatte nascere altre perché hanno creato Abruzzo hanno alimentato anche Abruzzo e Ingini attraverso fondi europei che non potevano essere dati ma perché tante altre cose non è che è necessario per diventare bravi essere all'opposizione quando sei in maggioranza devi dimostrare di essere bravo e quindi dopo non puoi quando stai all'opposizione rivendicare delle cose che non hai fatto quando eri maggioranza quindi le due squadre che si confronteranno saranno una che ha risanato e ridato orgoglio e fierezza all'Abruzzo e una che l'ha fatto fallire dirandogli vituperio facendone parlare come regione canaglia poi scelgano i cittadini lei ha evidenziato tutta una serie di obiettivi raggiunti in questi quattro anni sicuramente tante cose da fare tante cose da fare soprattutto su questo degli errori ovviamente lo diceva anche lei sono stati commessi e quali sono gli obiettivi forse una delle emergenze è quella legata un po' alla crisi del mondo del lavoro che ovviamente non è un problema soltanto abruzzese ma se uno pensa che la regione Abruzzo possa avere i tassi di sviluppo della Turchia o avere la crisi che c'è in tutto il mondo occidentale è impossibile quindi io dico che la regione Abruzzo sta vivendo una crisi al pari del paese e di altre del mondo occidentale in sostanza tranne la Germania e alcuni paesi del nord Europa compresa gli Stati Uniti che vedono soffrire moltissimo perché la crisi è forte è profonda è vastissima ma l'economia smettiamo di far credere alla gente che la politica possa tutto soprattutto la politica a livello locale oggi l'economia è globalizzata non si governa più a livello locale potete immaginare noi siamo in un contesto che è quello italiano seguiremo le sorti del sistema italiano detto questo ci può essere anche un confronto però tra le varie regioni per valutare bene allora questo io vi rimando allo studio dello Svimez che ha detto non solo che nel 2011 la regione Abruzzo è stata la regione che ha avuto il più alto tasso di sviluppo dopo il Veneto ma anche il più alto tasso di incremento dell'occupazione ma che per il 2012 avrà una recessione così come ce l'ha la regione e come ce l'ha l'Italia inferiore alla media italiana e che per il 2013 la regione Abruzzo è prevista per essere tra le poche regioni italiane forse l'Abruzzo e qualche regione del nord-est con un segno positivo del PIL sono dati che secondo me possono far capire una cosa che la regione Abruzzo in un contesto di crisi si è difesa meglio delle altre pur soffrendo come tutti ma le aggiungo un'ultima cosa tanto per far capire quanto sono convinto di questa cosa non è un merito mio l'economia come ho detto non si governa a livello locale soprattutto nel breve periodo è molto più importante ciò che decide la Cina di fare di ciò che posso fare io con un decreto magari con un'opera pubblica che ci mettiamo dieci anni a fare quindi è merito della classe politica brussese scusa della classe economica brussese cioè degli imprenditori che si sono dati da fare e che hanno recuperato quote di mercato e un'altra cosa vorrei aggiungere non è che questa cosa passa dalla sera mattina perché il problema della nostra crisi la crisi italiana non è una crisi finanziaria vogliono far credere che sia una crisi finanziaria è una crisi industriale è una crisi strutturale le nostre imprese perdono quote di mercato e competitività ogni giorno di più e questo perché perché la loro struttura dei costi è talmente poco competitiva con i concorrenti che piano piano comporta inevitabilmente la riduzione delle quote di mercato cioè meglio che voglio dire il made in Italy la qualità non è che può tutto quando poi i costi sono altissimi noi abbiamo le nostre imprese hanno costi di energia più alti tra i più alti al mondo e comunque più alti dei concorrenti hanno i costi di mano d'opera che sono quelli che sono tra l'altro molti costi di mano d'opera sono diciamo la componente fiscale sulla mano d'opera non quello che prende il dipendente il lavoratore il lavoratore hanno costi di materie prime sulle quali non possono intervenire perché non siamo produttori di materie emettive hanno costi fiscali tra i più alti al mondo detto questo le nostre imprese fanno miracoli grazie alla loro qualità per rimanere nel mercato bene con questa considerazione del governatore Gianni Chiodi si chiude l'appuntamento odierno di Link ringraziamo il governatore per la sua presenza ringraziamo chi ci ha seguito da casa e ricordiamo che la replica di questa puntata andrà in onda stasera alle 21 arrivederci grazie a tutti